La città è una grande città universitaria, non è un po' perché abbiamo una città di accedenza, però per essere città universitaria e due università ci vogliono ma non basta, pensare alla città, le sue strutture, i suoi orari, i suoi tempi in funzione di una popolazione strutture. Questa è la ragione per cui abbiamo nei discorsi messo in campo il piano di residenza universitaria, e tanti studenti vengono la fuori o i tuoi orari e i tuoi orari hanno la possibilità di essere sospettati e le ricette. Questa è la ragione per cui oggi noi auguriamo questo Student Zone, che è un luogo, diciamo giovanile alla città come i Murazzi, un luogo per i studenti universitarie per poter godere di tutte le facilitazioni di cui oggi uno studente ha bisogno, soprattutto ha avuto i collegamenti interni e di tutta la tecnologia. Significa le città universitarie aprirsi a un'università. Quest'anno due università americane realizzeranno a Torino la loro scuola estiva. Fare di Torino una grande città universitaria, lo merita e questo contribuisce allo sviluppo di questi giorni.